ok salve buonasera a tutti giornata che ha visto le borse europee chiudere in netto calo il dax chiude almeno 1,55 per cento il libex almeno 1,74 per cento cac 1,47 futz di londra almeno 0,81 per cento e futz mi che chiude a meno 1,71 per cento battuta dal resto per la produzione industriale della gran bretagna che ottobre ha segnato una flessione dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente più del previsto gli analisti si aspettavano un calo dello 0,4 per cento mentre su base anno nei confronti ottobre 2017 la produzione inglese è scesa dello 0,8 per cento crollo verticale anche sulla fiducia degli investitori dell'eurozona secondo il sondaggio centix l'indice che misura la fiducia degli investitori si è attestato a dicembre a meno 0,3 punti in forte ribasso dagli 8,8 punti del mese di novembre si tratta del livello più basso a dicembre 2014 mentre invece quello che ha fatto crollare la news o quello che ha fatto crollare tutti gli stili europei è dipeso prevalentemente da quello che sta succedendo in Inghilterra con appunto anche la sterlina che ha avuto delle forti perdite oggi addirittura è scesa ai minimi di giugno 2017 a seguito appunto dell'annuncio da parte di Theresa May che il voto in Parlamento sull'accordo siglato tra l'Unione Europea la May per la Brexit verrà rinviato questo perché per poter una decisione che è sembrata inevitabile per la premiera inglese visto che al voto di domani avrebbe quasi sicuramente registrato una sonora bocciatura andiamo a vedere cosa ci offre il calendario domani a domani alle 10 e 30 già si parte con una serie di indicazioni in arrivo dalla Gran Bretagna con la variazione dei sussidi di soccopazione di novembre l'indice dei salari medi inclusi di ottobre i tassi di soccopazione di ottobre alle ore 11 invece abbiamo l'indice zev su sentiment dell'economia tedesca di dicembre e alle 14 e 30 l'indice dei prezzi alla produzione di novembre mentre invece poi salta il voto sulla Brexit beh passiamo adesso andiamo a vedere quello che è successo per quanto riguarda i principali scenari partendo dall'euro dollaro allora per quanto riguarda l'euro dollaro abbiamo una situazione vedete una situazione nettamente contraria rispetto a quella che abbiamo visto oggi stamattina durante la diretta live diretta live dove abbiamo ci siamo lasciati con un prezzo che era al di sopra 1 14 224 mentre invece adesso abbiamo un vero e proprio cambio di tendenza ovvero una giornata a doppio senso prima rialzista e poi in questo momento vedete ribassista dove sta un'altra volta raggiungendo si è portato sotto la di nuovo all'interno di questo triangolo di compressione ed al momento la view rimane sempre di stampo ribassista per quanto riguarda invece serena dollaro serena dollaro abbiamo avuto una movimentazione di oltre 250 punti quindi un range di volatilità di 250 punti dove è stato polverizzato questo valore psicologico oggi 1 27 ed è stato superato anche questo 1 26 adesso ci troviamo al testo di 1 25 e 50 dove molto probabilmente così diciamo che potrebbe anche domani la stellina potrebbe subire altre movimentazioni ribassiste stessa situazione invece la troviamo per le altre scenari in cui è presente la stellina euro stellina abbiamo le due operazioni buy ne abbiamo chiuso 2 a target 50 più 130 180 punti poi abbiamo stellina yen siamo ancora sell a mercato abbiamo chiuso la prima operazione intorno ai 150 punti adesso stiamo a 220 punti per quanto riguarda la seconda operazione poi per quando riguarda invece stellina dollaro australiano anche qua ottima giornata di profitti vedete quindi qua abbiamo la il primo la prima operazione chiusa a 110 punti adesso ci il prezzo si porta sotto 1 e 75 livello livello psicologico oltre essere un mio livello annuale e questa situazione vedete la view rimane prettamente ribassista bene invece per quanto riguarda stellina dollaro della nuova zelanda qua anche qui abbiamo preso profitto abbiamo chiuso tutte e due le operazioni quindi operazioni alla prima a 110 punti la seconda a 180 punti per quanto riguarda l'oro invece è stato chiuso la prima un altro la terza il terzo target perché vedete praticamente la candela rossa non al momento non non mi dà delle grosse soddisfazioni per eventuali ulteriori movimentazioni al rialzo e ho lasciato solo il secondo target ovvero quello di 200 tra 20 punti bene quindi per stasera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo quindi domani mattina con la diretta live della prima diretta live della giornata alle ore 8 e 30 buonasera da tutti